Ciao ragazzi, guardate che bella copertina che ci regala l'Espresso. Sanità distrutta, nazione infetta, mancano posti letto, infermieri e ospedali, anni di tagli hanno distanguato il servizio pubblico. Che bello poter contare su dei giornalisti con la schiena dritta, che raccontano agli italiani ogni giorno quelli che sono gli effetti di queste politiche di macelleria sociale volute da Bruxelles. Ma scusate, ma per caso è lo stesso l'Espresso che nel 2011 incoronava Giorgio Napolitano come uomo dell'anno per aver aiutato a far cadere il governo Berlusconi e aver portato al potere Mario Monti, uno dei più spietati esecutori delle politiche di austerity di taglio alla spesa pubblica? È lo stesso l'Espresso che di fronte a delle timide critiche da parte del governo gialloverde alle politiche europee, soprattutto in tema immigrazione, paragonava i sovranisti al Ku Klux Klan? È lo stesso l'Espresso che ci ha parlato di primavera Europa contro i rancori del sovranismo? È lo stesso l'Espresso che alla vigilia delle elezioni europee del 26 maggio 2018 titolava Nostra Patria Europa? Ovviamente basta cambiare la parola Europa con Italia e si diventa fascisti. Insomma siamo di fronte alle stesse identiche persone che per anni e anni ci hanno detto che i tagli alla spesa pubblica erano giusti, erano inevitabili perché bisognava abbassare il debito pubblico, perché c'erano i trattati, perché c'erano i vincoli, perché i mercati altrimenti si sarebbero preoccupati e bisognava mantenere la stabilità, bisognava mantenere la credibilità del governo di fronte agli investitori internazionali. Sono le stesse persone che per anni ci hanno ripetuto che senza l'Unione Europea l'Italia non sarebbe andata da nessuna parte. Sono le stesse persone che ci hanno ripetuto, anche qui per anni, che il pubblico era brutto, sprecone, incapace, molto meglio il privato. Sono le stesse persone che ci hanno decantato i trattati come Maastricht che al loro interno prevedono proprio la stabilità dei prezzi, la disoccupazione strutturale, la deflazione salariale e il taglio indiscriminato della spesa pubblica per ripagare gli interessi sul debito pubblico. E ora questi individui fanno finta di cadere dal pero e si fingono sorpresi che manchino 56.000 medici, 50.000 infermieri e che siano stati soppressi 758 reparti negli ultimi 5 anni. E non è certo finita qui, perché negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 80.000 posti letto e il sistema sanitario nazionale si è visto sottrarre 37 miliardi. Dunque le parole dei giornalisti dell'Espresso e di tutti coloro tra i loro colleghi o opinionisti che in questi giorni stanno facendo a gara chi si mostra più preoccupato per lo stato di salute della sanità pubblica italiana sono ridicole e ipocrite. La verità è che questa crisi sanitaria ha mostrato ancora una volta che le politiche neoliberiste non fanno bene né allo Stato né al popolo. D'altronde parliamo dell'Espresso, che fa parte del gruppo Gedi, in mano a Carlo De Benedetti, tessera numero uno del Partito Democratico, grande frequentatore del gruppo Bilderberg e dei Rothschild. E la stessa rivista è allegata a Repubblica, ovvero la carta straccia europeista per Antonomasia, la quale titola Aiuti per 3,6 miliardi e l'Europa ci dirà di sì, riportando le parole del nostro meraviglioso ministro dell'economia, Gualtieri, il quale assieme a Giuseppe Conte ha portato avanti le trattative sul MES negli ultimi mesi, tenendo anche all'oscuro le camere. Meccanismo europeo di stabilità che ricordiamo essere immortale per l'Italia oggi più che mai, non solo a fronte dei miliardi che servono e di cui abbiamo bisogno per rimettere in sesto il sistema sanitario nazionale, ma anche nell'ottica del pericolo della ristrutturazione del debito. Dunque noi siamo in una situazione paradossale in cui dobbiamo prostrarci di fronte all'Unione Europea e ringraziarla se ci permette di fare uno 0,2% di spesa in più, ovvero se ci permette di utilizzare i nostri soldi per far fronte a un'emergenza sanitaria sul nostro territorio. Ma l'Unione Europea è questo, è sempre stata solamente questo, un covo di usurai a servizio dell'alta finanza, che vedono le nazioni semplicemente come dei grandi salvadanai da rompere per poter poi depredare tutte le ricchezze al loro interno. Abbiamo vista la solidarietà europea in questi giorni, non è arrivata una singola mano tesa verso l'Italia. E se da una parte questo governo non ha ovviamente la minima intenzione di alzare la voce verso i propri padroni europei, nelle opposizioni c'è ancora chi parla di politica comune europea. Per non parlare poi dei nostri fratelli greci, che sono stati spolpati vivi prima e poi lasciati da soli a fronteggiare l'emergenza migratoria. Erdogan, dopo essere stato rimpinsato da milioni di euro proprio da parte di Bruxelles, ha deciso di aprire la frontiera e il territorio ellenico rischia di essere invaso da decine di migliaia di immigrati. Mentre invece sulle isole greghe, come ad esempio a Lesbo, la situazione dei centri di accoglienza è semplicemente disumana. E su questo ovviamente proprio coloro che ci hanno sempre raccontato quanto fosse bella e meravigliosa l'Europa non hanno assolutamente nulla da dire. Quindi la prossima volta che vi racconteranno di casa comune europea, la prossima volta che vi diranno che lo straccio blu ci difende dalle sfide globali, la prossima volta che vi ripeteranno che dobbiamo tagliare la spesa pubblica perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e dobbiamo renderci credibili agli occhi dei mercati. Ricordate questi giorni e mandateli a fare in culo. La storia l'ha già fatto.